Presidente, senatrici e senatori, l'intervento di poco precedente della senatrice Lomoro mi esime dal ricorrere ad alcuni argomenti giuridici, ad alcuni riferimenti costituzionali che la senatrice ha saputo utilizzare con grande puntualità e competenza. Dunque posso tentare un ragionamento assai differente. Sono tornato in Parlamento dopo un lungo intervallo di tempo nel 2013. Già senatore nel periodo tra il 94 e il 2001, mi capitò allora la fortunata opportunità di presentare uno dei primissimi disegni di legge, forse il secondo dopo quello della senatrice Alma Capiello, in materia di unioni civili. Dico questo perché tale circostanza mi consente di osservare con una certa attenzione le trasformazioni intercorse nella società nazionale tra la metà degli anni 90 e oggi. I grandi mutamenti nell'opinione pubblica e quella consapevolezza oggi così matura sul tema in questione. E tuttavia scorgo la riproduzione di un rischio ricorrente. Il rischio è ancora quello di una sorta di falsa rappresentazione. Una falsa rappresentazione è di un conflitto simulato tra due schieramenti fitizi. L'uno che si vorrebbe titolare esclusivo, ecco questo è il punto, titolare esclusivo di valori forti, di una concezione morale, di principi non rinunciabili e non negoziabili, è all'opposto uno schieramento che si concentrerebbe interamente su interessi parziali, circoscritti, di minoranza e, nella migliore dell'ipotesi, di una sommatoria di minoranze. Da una parte dunque l'ettica e dall'altra il desiderio. Per un verso una concezione ispirata da valori morali e, all'opposto, una concezione tutta di natura edonistica, consumistica, alla resa dei conti egoistica della vita e delle relazioni sociali. Ecco, questo è il cuore della falsa rappresentazione che rischia di dominare la discussione pubblica. Perché io penso l'esatto contrario. Penso che nella domanda di unione civile c'è, può esservi, una forte istanza morale. Cos'altro è, se non un'istanza morale, quella che motiva un'unione che si affida alla reciprocità, alla mutualità, al vicendevole affidamento, all'assistenza, alla proiezione del tempo, alla stabilità e, infine, alla coniugalità e alla genitorialità. E non è tutto questo, forse, la base morale di una relazione e di un'unione civile? Non è forse questo un fattore che può contribuire a rafforzare la coesione della comunità e a ridurre il disordine sociale? Ecco, è questa una delle molte ragioni che mi inducono a ritenere come essenziale il disegno di legge in questione e a criticare incondizionatamente l'ipotesi che vorrebbe lo stralcio del capitolo delle adozioni e l'amputazione del disegno di legge Cirinna di quella sua parte così significativa. Ritengo che chi persegue questa ipotesi riveli una sorta di impostazione economicistica, una impostazione che propone uno scambio tra garanzie materiali e sociali e rinuncia al riconoscimento giuridico morale dell'unione civile. Uno scambio, cioè, tra garanzie patrimoniali, previdenziali, ereditarie, fiscali, assicurative e amministrative e un'idea parziale ed immediata della condizione omosessuale. Una condizione che secondo questa impostazione si presenterebbe come inevitabilmente monca. Una condizione omosessuale che non prevede un cittadino intero e una persona intera, titolare di una dignità piena senza eccezioni e senza deroghe. Ma, all'opposto, presuppone una condizione omosessuale ridotta alla sua dimensione sociale e materiale e dunque priva di quei requisiti e di quei diritti che costituiscono il tratto proprio della unicità della personalità umana e della sua irripetibilità. Ecco, questo è il punto cruciale. Io credo che sia questo il nodo che dobbiamo considerare ed è questo il punto sul quale dobbiamo riflettere e impegnarci. Perché se noi non consideriamo questo tratto essenziale della personalità umana che si traduce in una domanda e in un diritto all'affettività e alla pienezza emotiva, alla sessualità e al sentimento, alla genitorialità e alla coniugualità e a quel pezzo di felicità condivisa che ci è consentito, quel pezzo così limitato e gracile che ci è permesso in questo nostro mondo, alimenteremo comunque l'idea di un uomo sessuale dimediato. Ed è quello che appunto non possiamo permettere con un provvedimento di legge. Dobbiamo operare esattamente in una direzione opposta. Ed è per questo che lo stralcio significherebbe proprio accettare questa riduzione dell'omosessuale alla sua dimensione sociale e materiale, non solo sacrosante e legittima e da tutelare attraverso diritti adeguati, ma ovviamente essenziali. Ma altrettanto inevitabilmente una simile impostazione ridurrebbe l'unione civile a un mero contratto privato e dunque lo neutralizzerebbe di ogni suo contenuto morale, che è ciò che poi costituisce il cuore della domanda di unione civile come si è manifestato in questi anni. Ecco, se noi consideriamo tutto questo ci renderemo conto che la discussione pubblica in atto è certo un grande dibattito culturale e politico che richiama dilemmi morali e visioni del mondo, ma è in primo luogo, è innanzitutto e soprattutto un grande tema di uguaglianza e di pari dignità. È quello che può apparire una problematica di pochi, qualcosa che statisticamente riguarda alcune migliaia di persone, si rivela alla resa dei conti una questione di libertà per tutti. E allora siamo di fronte a una classica controversia, quella sul diritto ad avere diritti, ovvero sul fondamento stesso dell'idea di democrazia. Grazie. Chiedo di poter allegare il mio intervento.